Piccolo spoiler di un video, un faretto portatile a batterie, a led molto luminoso, si accende e fa veramente tanta di luce. Poi con il potenziometro qui dietro si può regolare la luminosità fino al minimo e poi al massimo e chiaramente tutte le luminosità intermedie. Chiaramente tutto controllato con una floppy board, questa volta una floppy board 2.0 perché andava bene lo stesso e poi era più compatta per fare tutto il circuito. Piccolo mosfet, boost converter, batteria e litio, potenziometro e pulsante chiaramente. Premendo il pulsante si spegne e ripremendo si accende. Molto molto comoda per i video. Grazie per la visione.